Ben trovati con il meteo di Telenuova. Queste le previsioni del tempo per lunedì 21 luglio. Al nord giornata all'insegna della nuvolosità compatta e diffusa con associate precipitazioni su gran parte delle regioni che assumeranno anche carattere temporalesco localmente intenso. Molte nubi su Alta Toscana e Sardegna al primo mattino con locali piogge ma con rapido peggioramento sulle aree tirreniche peninsulari con intensificazione dei fenomeni che dalla Toscana si stenderanno anche alle altre regioni. Le precipitazioni risulteranno più sporadiche sul settore adriatico e poi sulla Sardegna. Al sud e sulla Sicilia poco nuvoloso al primo mattino ma con progressivo aumento della copertura nuvolosa con delle precipitazioni prima sulla campagna e a seguire sulle altre regioni. Tempo in peggioramento sulla campagna per l'arrivo di una perturbazione atlantica che formerà un vortice depressionario sul mar Tirreno. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con schiarite ma con tendenza ad aumento delle nubi con piogge miste a sabbia del Sahara e locali temporali. Temperatura in diminuzione, venti moderati da ovest, mare mosso.